Buongiorno a tutti, bentornati nella mia pagina. Oggi di nuovo vi dirò un punto pronto uso. Questa volta è un punto un po' particolare. Oggi, vedete, sono tutta fiorellini, allegro. Perché? Perché è il punto dell'eccesso di riso. Quando viene voglia di ridere e non si può ridere. Non so se è mai successo, a me è capitato delle volte in cui mi è venuto un attacco di riso, la ridarola, non viene detta qua in Piemonte, adesso non so se nelle altre parti d'Italia si chiama così. e più io non volevo ridere, più ridevo tantissimo. Mi sono fatta delle figure tremende. Non mi è successo tante volte, però mi è successo qualche volta. Ho trovato nei mari appunti, libri che io consulto, quelli che utilizzo anche per lavorare, questo punto mi è sembrato interessante proporlo. È un punto che serve nel momento in cui voi avete un attacco di riso e non potete ridere. Perché lungi da me, da voler bloccare le vostre risate, ovviamente, perché ridere è importantissimo, fa bene alla salute, ci tira sul sistema immunitario, ci dà, tira sulla serotonina, fa un sacco di belle robe. Però ci sono dei momenti in cui magari oggettivamente forse non è il caso. Questo punto si trova sul polso. Siamo sul meridiano del cuore, parlando di meridiani, visto che ormai voi siete assolutamente esperti di meridiani, quindi parliamo del meridiano del cuore, questo punto è all'altezza nella piega del polso. Siccome, se vi ricordate, il meridiano del cuore arriva sul mignolo, siamo all'altezza della piega del polso, però in prossimità il diritto del mignolo. Questo punto qua è a questa altezza, quindi voi potete, è anche molto discreto, se vi viene voglia di ridere, vi mettete così e iniziate a massaggiare questo punto profondamente, per un minuto, due minuti, bilateralmente, quindi da una mano, da un polso e anche dall'altro. Vi consiglio di provare, non smettete di ridere, mi raccomando, però provate nel caso fosse un'urgenza particolare. Vi ringrazio di avermi ascoltato e come sempre, grazie alla vita!